Mercoledì 4 ottobre, buongiorno a tutti per una tentata rapina a mano armata. Ieri sera presso una gioelleria a Menfi un uomo è stato arrestato. Si tratta di un giovane di Palermo che probabilmente avrebbe avuto dei complici ricercati adesso dai carabinieri. L'uomo è entrato nella gioelleria a campo ed ha puntato la pistola a un dipendente. Una pattuglia dei carabinieri che stava transitando è intervenuta in tempo bloccando il rapinatore. Portato poi presso la stazione dei carabinieri di Menfi è stato posto in stato di arresto. Si tratta di un giovane pregiudicato della provincia di Palermo. Condanna definitiva a 30 anni di carcere per Vasile Lupascu, 48 anni, e il figlio Vasile Vladut, di 23 anni, riconosciuti colpevoli di aver ucciso nel 2018 a Naro a colpi di zappa, spranga, di ferro e coltello il bracciante 37enne Costantin Pinau. Il delitto è stato commesso insieme ad Anisoara Lupascu, 42 anni, moglie e madre degli altri due imputati, condannata lo scorso 5 giugno a 22 anni di reclusione. Protesta nel mondo agricolo del territorio dopo il nuovo stop al prelievo dell'acqua dal Lago Arancio per scopi irrigui determinato dal problema dell'inquinamento legato a sua volta alla presenza dell'alga rossa ma anche di scarichi fognari. L'assessore comunale di Sciacca, Francesco Di Mino, ha chiesto un intervento immediato agli assessori regionali Roberto Di Mauro e Luca Sanmartino, intervento anche dal deputato regionale Michele Catanzaro che denuncia l'assenza del governo regionale e propone l'utilizzo temporaneo dell'acqua della diga Garcia. Il garante regionale dei detenuti Santi Consolo e il dirigente dell'ufficio Pietro Valenti hanno visitato ieri la casa circondariale di Sciacca per verificare la praticabilità e il restauro dei beni di interesse artistico presente all'interno. Il garante ha avuto un incontro con la direttrice e con il personale. Si pensa addirittura ad una fruibilità al pubblico di alcune aree di particolare pregio, quale il chiostro interno. Ritorno a Sciacca al festival Le Vie dei Tesori. La manifestazione organizzata dalla fondazione Le Vie dei Tesori in collaborazione con il comune di Sciacca è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa. Si comincia sabato prossimo 7 ottobre fino al 22 ottobre, sempre sabato e domenica, tre fine settimana consecutivi. 13 luoghi previsti da visitare, 11 passeggiate, cinque esperienze, tra i percorsi da segnalare il racconto dell'ultima notte di Accursio Miraglia da parte del figlio Nico. Con un lavoro audiovesivo, gli studenti del liceo Tomasso Fazzello di Sciacca si sono giudicati il primo posto nell'edizione 2022-2023 del concorso nazionale promosso dalla scuola Strumento di Pace EIP Italia. Assistiti in qualità di esperto esterno dal giornalista Massimo D'Antoni, gli studenti hanno realizzato un progetto contenente diversi spunti nel rispetto delle indicazioni contenute dal bando. Calcio oggi lo Sciacca è in campo a Porto Empedocle per la partita di ritorno di Coppa Italia contro il Profavara. I neroverdi all'andata si impostano con il risultato di 2-1. Esordio in panchina per il nuovo allenatore Davide Boncore. La società spera in una netta inversione di tendenza del rendimento del gruppo dopo le tre sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato. I tifosi neroverdi non potranno assistere alla partita che si giocherà a porte chiuse. È tutto, grazie per averci seguito. Buona giornata.